eccoci qui pronto peppe lo so che mi sta a registrare sono sciocco no no non è vero peppe vaffanculo si ma ti dico che non è vero turbine di fuoco ma lo voglio oggi c'è dai ma è scei ma è brava che amico non ho tutto i tuoi po' di cifruttire i soldi vuoi accattare la vostra battaglia capito? no infatti mi sto freddo però questo è bello questo qua bullo ma roppo buccato na 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 lo so di ero c'è ma perché ci mettiamo tanto tempo su connetto ma che faccio che stiamo a fare un pazzo vedi me e comico sediamoci comodo metti di comodo su dove si va andiamo come come di fatto con la spalla stasera su un divano ok perché dobbiamo andare a morire ma che ti sei spaventata sembra non lo so se c'è sceso qualcun altro ora faccio bloccato anche una grondaia non è un pocchio ma non è un pocchio non è un pocchio oh se volete c'ho scudini oh che bello siamo capitati nella zona allora ho piacere amico ma tutte le partite a morire subito ma che amici sono in una tomba ragazzi se volete ce lo scudi per voi di sostituirlo al supporto di geni ragazzi volete ci chiamano qua il pompa ripetizioni geni non si sento proprio parla che stai chiuso in una barra oh geni aspetta di portare gli scudi ma capiti che è inutile sta finita basta pure per te il pompa ripetizioni eh già ce l'ho il pompa ripetizioni che questione completato no per gerardo ma sono scemo il culo io ho trovato una quarantina di mitraglietta stiamo pulita in war non l'ho presa perché stanno trovato a fucile a ripetizione cioè semiautomatico ne va bucazia se pare un nuovo lanciabend geni supporto con lanciabend per te dai ben un quadro magari bisognava vede vicino a più attivati come avrai ragazzi io mentre tutti corri ha maronna mio mi tenso di un fucile che trovo si trovate più grandi a me al vostro più forte e dopo 24 anni finalmente lo capisco ecco trovata la mitraglietta no no l'ho trovata voglio provare a fare quella cosa pompa e mitraglietta wow scarro cioè quelli solitamente sai che fanno ti danno un colpo di pompa e poi ti colpiscono con la mitraglietta ma deve essere veloce nel cambio infatti le ho messe vicine io lanciarazzi scambio volentieri con un bel cecchino eh no thank vabbè allora te lo debattro se vuoi però c'è una bellissima mitraglietta o un bomba ripetizione no no ti è qua non ti preoccupare o lascio il lanciabende quasi quasi lascia il lanciabende però sembra pure qualche razza si sapevo sono qua da me vieni vieni dai non non ho mai entrare non ho mai entrare non ho mai entrare vieni qui vieni qui ci sono i ragazzi 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 no glielo c'è dati io geni tienili tu e noi non lo so li a coppialo è pure il video io aspen per primo piano su bella così forse apportiamo quando più robocchi stanno in questa casa aspetta aspetta che sto chiedendo qua mentre c'è chi ma le case di qua le abbiamo già viste tutte io si vedi sta torre qua dove sta torre qua che dove sto io no quella ci sono sceso da sopra ok c'era un pianta minchia dove stanno i ragazzi il piano di sopra in questa casa dove sto io c'è un piano di sotto a questa casa no sopra sopra ok allora questa casa la vendiamo a 130 mila euro con open space su due piani e beh boom hai chiuso la porta in bacia no ma veramente te la sei chiusa tu no sono aggiavato esatto sono qui perfetto andiamo cimia eh che facciamo c'è adesso buco l'appbook dovevo scusa mamma mia si proprio pesca si vede che è uno della maddalena devi avere questo no c'è se mi levo qualcosa lo già tengo a merda a capo ma me le levo pure che faccio voi vi sparate io a fianco di pancio i coriandoli oh no già ce ne ho tre ma mica avete trovato uno scar io si non mi ricordo dove però aspettalo vuoi tu vieni qua eh perché tengo il vamp dorato sinceramente thank you ma vedi ci sta mi è andato pari scar stavo cercando no per me mi preoccupate no mi serviva c'ho sia il pompa che la mitraglietta è un'arma da lunga distanza capito stavo cercando ma non niente ragazzi c'ho un sacco di munizioni del tuo ah si fosse facile girare tu che pepe le trovavo qua c'è sono scar qua a fianco a me aspetta allora dimmelo lo piglio io sta qua lo metto qua thank you mi fai tu scemi i milchi eh fura cala zona ci non si mai vabbè dici non è lontanissimo ooo fuggi fugga fugga prevecce vada scusi mi facevo male con la zona dopo che l'avete detto mi avevo attaccato ma no quando mi tragetti hanno messo andatela per quanto non sono entrato nella zona ebbene si sono stupido anche qui siamo proprio vicini e guarda fa uno chiami scema fa pure la parto offre come chiami scema da smetti mi faccio tu bene adesso ci mi costi ragazzi c'è uno oh cecchino cecchino mi ha cecchinato anche a me più di uno il problema è uno che non abbiamo armi da distanza ma ce ne sa più di uno comunque è più di uno è più di uno giovane io non ero quasi atterrato quello è quasi morto quello che sta saltando in acqua c'è tipo uno di vita più o meno come sparare a casa da chi uno è vita costruisci 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 uno è vita teniamo ancora lo scudo sta capo è bucchino è impossibile io ho levato tutto aspetta 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 tenevo lo scudo pure uno è vita mannaggia ma ecco qua ha serato no ha serato piccato help 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 eh è una parola eh una parola che cavolo ho messo una trappola a casa aspetta aspetta sto venendo a prendere la tua cosa ma che mi salve la propria eh per sbaglio io vedi che sa che sa che sa tu sei tu nooo non vado niente da lontano però dopo poco vabbè l'importante è che è andata bene così attenzione vai oh cacchio vai sto coprendo vai vai ma perché si ci sta attenzionando aspetta coprimi 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 venite munizzi funite munizzi funite munizzi ma c'è è una peggio zona nell'aperto completo senti a fianco spiralo a sinistra le visi Mi sono raccogliato Ah cacchio sto senza vita Sono quasi morto Guarda tante scende Che cazzo Sono andato a fare il giro Mi sono beccato proprio E' una brutta situazione Ma sparano da vicino L'abbiamo uccisi Sì Oh razzo qualcuno mi ha tirato un razzo Cioè se andò un razzo non so chi è stato No ma non ne ho pure Ti fai curati Sì sì un attimo L'ha preso già il cecchino papà Sì Vedi se c'è un altro lanciarazzi C'era No loro non ce l'avevano il lanciarazzi La zona finale russa non è un pazzo Vabbè dobbiamo andare qua per curarti Tieni via Eh ma come vai parte la tempesta Cosa? Cosa? Ma lo ci fai soltanto da supporto morale stavolta Eh supporta lui Supporta qui in vertigo Dai Ma tu perché da avventuri sul? Cioè non lo so Perchè non ho atterrato uno e non avevi visto quell'altro Andreva uno dietro Eh sì io fratello cazzo Cioè Comunque apri io Eh beh fuggi Fugga Hai visto la punta di esperienza qua? Oh ma c'è un po' di esperienza? C'è gente 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 Eh non lo so Oh eccolo l'ho visto Aspetta che lo distragcia Sperate che No state qua Menomale che Pepper è stato distr guarda aspetta guarda niente non sto aspettando cosa funziona perchè quelli per farà da me oh vanculo porcazza la madonna ne fregare è capito era pure solo sto c'è sei uccisione per la f...